e portagliela via questo è un classico disarmo che se funziona adesso è però se io non riesco a farlo perché lui comunque regge l'asta e lui dà un'altra a questo punto esatto io potrei dire ah brutto bastardo hai cercato di levarmi l'asta adesso ti tolgo io la tua e tiro verso di me e io però a questo punto non allungo solo l'asta perché altrimenti non saremmo adeguatamente in misura ma quando lui tira l'asta io faccio un affondo e miro con la punta dipendentemente lui come ha tirato se ha tirato in lì o basso o alto io vado in affondo e colpisco con lo spontaneo